Quello che sentiamo in tante chiese, ama il peccatore, odia il peccato. Si dice tanto questo? Sì, questa è una forma diciamo politicamente corretta di parlare. Nella Bibbia non c'è questa differenziazione. Cioè vediamo in Apocalisse 20 verso 15 che Dio manda nel lago di fuoco quelli che non sono scritti nel libro della vita, non manda solo i loro peccati, manda loro. Ah, le persone le manda. Le persone. Cioè nella Bibbia non c'è questa finezza, questa cosa subliminale. Cioè io sono assassino ma non lo dire. Diciamo l'atto è così, però io però sono cos'ha? Cioè non puoi separare l'assassino dall'assassino. Quindi se uno comite un crimine, metti il crimine in prigione ma non il criminale? Non funziona così? Non funziona così. Cioè non puoi accusare il furto ma non il ladro. Non puoi accusare diciamo la disonestà ma non il disonesto. Come fai a separare? È giusto. Perché la disonestà da cosa viene? Viene da un disonesto. E quindi queste differenziazioni che si usano è politicamente corretto perché oggi le leggi vengono fatte a favore dei ladri, dei criminali. Così tanto che la polizia non va più a cercare i criminali perché tanto domani li lasciano liberi perché vanno gli avvocati. In base alla legge X, X, X dovete rilasciare. Loro devono rilasciare perché hanno fatto delle leggi per proteggere i ladri, i criminali. Sì. Va bene, se uno entra a rubare la casa tua e te gli usi violenza, quello ti può denunciare per violenze. Va bene, io volevo solo rubare. E quindi se ne è guai nella Bibbia non era così. Vero, io se io inizio a dirti delle bugie non posso dire, oh Giuseppe puoi accusare le bugie ma non accusare me. No, io devo imparare certe lezioni, devo essere anche io accusata, condannata, pentita e cambiare. Il criminale ti accusa di diffamazione. Tu mi stai diffamando. Cioè oggi nel mondo è l'incontrario. Ecco criminali.